167 LELIA Il primo fiore lo misi dinanzi alla Madonna del Carmine. Finalmente ritorna a casa. Descrive il suo male per ringraziare il Signore. Desiderio di lucrare le indulgenze del Giubileo. Sono finalmente a casa da lunedì sera. Somena mi visitò e mi disse che ero completamente guarita e perciò stabilì subito di ritornare a lunedì stesso. Il tempo era da lupi, ma venne il zio Virgilio con la macchina dell'ufficio ed arrivai a casa magnificamente bene. Adesso ho già fatto colazione, latte e caffè con pane e burro, come non facevo da anni, e mi sono rimesso a letto dove per ordine superiore familiare debbo stare fino alle dieci e mezzo. Dopo mi alzo e sto come tutti gli altri, con la differenza però per quel tale sopracitato ordine eccetera non debbo fare niente, ma qualcosa faccio sempre, altrimenti morirei dalla noia. Sono molto debole, perciò non mi ribello, ma mano a mano che riacquisto le forze mi farò sentire. Oggi ricomincio il fegato. Martedì sera venne Ferrari, della clinica chiamato da noi, fece le ricette e così spero che riacquistando le forze non avrò più bisogno di medici. Siccome feci sabato scorso un'iniezione di vitamina B forte per la gamba, il cuore ne è rimasto un po' scosso e le ho dovute sospendere. Adesso prendo la coramina e quel dolore che mi impedisce di camminare bene lo curerò con delle applicazioni esterne quando mi sarò completamente ristabilita dall'esaurimento. Come vedi, ti ho descritto forse troppo minutamente tutto, così puoi stare tranquillo e ringraziare il Signore. Adesso ti scriverò una volta alla settimana, anche perché qui a casa è un po' difficile stare un po' sola. Lunedì e martedì ho avuto la graditissima visita di padre Leonardo e di padre Bernardino, così ti porteranno le ultimissime notizie. Sto pregando Santa Pallonia per i tuoi denti, mi è tanto dispiaciuto non poter contribuire per ora le spese della cura, ma San Giuda penserà a lui, al tuo convento e a noi. La nostra cara scuola elementare, l'Istituto della Salle, è stata venduta e sarà demolita a luglio. I fratelli costruiranno una grande scuola gratuita alla periferia. È dispiaciuto a tutti. Ti mando i saluti di un antico tuo compagno degli elementari, Iacuangeli Claudio, che è impiegato alla clinica nel reparto analisi e poi la sera frequenta le serali. La gita di Bassano è stata una bella maratona, ma per venire a Roma ci vogliono un bel po' di chilometri di più. In tutti i modi ne saremmo felicissimi e ti aspettiamo. Chissà che non potrò accodarmi a voi almeno per la visita alle basiliche. Quel sacerdote colombiano, che Leo continua ad andare a trovare, ci ha promesso che appena ristabilito offrirà una santa messa per me nella chiesa di Santa Teresa e che tutti noi ci accosteremo ai santi sacramenti per ringraziare il Signore. Roberto ha scritto che ha ripreso a studiare e sta bene, anche lui verrà per il giubileo. Leo e Teresa vanno ora regolarmente a scuola e Francesco continua le sue occupazioni casalinghe, strillando quando io lo voglio aiutare. Ma si tratta solo di un aiuto riguardante la direzione, perché non mi lascia fare niente. Papà è un po' preoccupato per l'ufficio e ti prego anzi di pregare assai assai per questo e per la sua salute, perché è un po' sofferente per un leggero ritorno di emorroidi. Io però non mi preoccupo, perché la mia malattia ha scombinato un po' tutto e ora spero che ogni cosa ritorni normale. Zia Gilda mantiene sempre allegri tutti ed è felice ed è la mia salute buona. Viene tutti i giorni e non sa che cosa fare per vedermi contenta. Se guido pure si fa vedere. Anche lui, contento per me. Chi non si è fatta più vedere è la famiglia Pergola, ma quella fa sempre così. Zia Maria non sta bene, ha un esaurimento forte, andrà presto a Gaete per fare i mesi. Non ti dico le feste fatte dalla signora Cottini, che è famiglia per il mio ritorno a casa. Ogni tanto viene a sorvegliarmi per vedere se lavoro o no. Anche la Castrucci è contenta e vuole per forza aiutare la barca. Asciuga le posate quando venuta viene a fare i piatti. Ho trovato il balcone tutto fiorito. Anche il giglio e la mimosa stanno benissimo. Francesco mi portò in clinica il primo fiore sbocciato, un geranio screziato, russi e nero, ed io lo misi dinanzi all'immagine della Madonna del Carmine, benedetta da Pio XII, che mi mandasti tu. Adesso ti lascio anche perché debbo scrivere a Roberto. Oseghi a tutti i superiori. Salute ai confratelli, a te, figlio mio carissimo, tutte le più sante benedizioni da mamma. Ecco il nome dell'operazione che ho subita. Entero Anesto Fumasi. Me la son fatta dire dal professore perché molti credono che io abbia il cancro.